La situazione in Veneto causa maltempo o sta peggiorando? C'è una situazione generale di maltempo in tutta Italia, però in Veneto è stata ed è particolarmente difficile. Ci sono interi paesi che sono andati sott'acqua, soprattutto nella bassa padovana. C'è stato anche un morto, purtroppo, a Montegrotto, dove è mancata una signora. Io stamattina sono intervenuto all'apertura dei lavori in aula, chiedendo lo stato di emergenza, risorse per il nostro territorio, parlando anche del problema del patto di stabilità degli enti locali, che stanno anticipando soldi dei cittadini e poi magari avranno il problema anche del pagamento e quindi del patto di stabilità. Vogliamo che il governo intervenga, intervenga come fa in altre zone del territorio. Invece abbiamo visto che anche sui media nazionali la cosa è passata sotto traccia. Questa è un'emergenza vera, una vera e propria alluvione. Ci attendiamo nelle prossime ore anche un peggioramento in alcuni casi della situazione. Quindi il governo deve intervenire immediatamente e mettere a disposizione tutti i mezzi e le risorse necessarie per questo particolare momento di crisi. Abbiamo depositato questa mattina anche una interrogazione di tutto il gruppo Lega Nord, dove chiediamo spiegazioni e risorse al governo.